Grande incendio a Roma, precisamente nella zona di Monte Mario, ci troviamo ovviamente a Roma Nord, un'area promettente della capitale dietro alla corte d'appello di Roma, addirittura è stata fatta la quale la serie della live ubicata in zona Nord. In Selle Girolamo pensate che si trovano in studio di Via Teulada e su una diretta Instagram ha annunciato che purtroppo è stata costretta a Bara obbligata a lasciare il programma l'estate in diretta, perché le fiamme sono letteralmente divampate in loco, va bene? Addirittura diversi automobili sarebbero andati in fuoco, i residenti di Via Teulada che vivono proprio in quella collina di Monte Mario, vicino a Piazzale Globio, non è così lontano, hanno potuto osservare il maxincendio che purtroppo è divampato. Diverse parassiere sono state fatte evacuare per precauzione, ovviamente un elicottero si è dispiegato in loco per spegnere l'incendio, a seguito di altri due canateri che ovviamente si sono recati in loco per cercare di domare le copiose fiamme. Grazie a tutti, il video termina qua, ovviamente se ci saranno eventuali aggiornamenti verifonirò per tempo per quel che riguarda questo vasto incendio che ha coinvolto Roma Nord, Via Teulada. E quindi la zona dove è ubicata la procura di Roma, via Sarecordio, grazie a tutti, una buona giornata a voi.